Un'apertura, un vero e proprio intervento d'urto per rilanciare l'economia e quello che sta definendo il presidente eletto Donato Toma per garantire la ripresa del territorio regionale. In attesa della proclamazione degli eletti, che dovrebbe aversi entro la metà della prossima settimana, il presidente eletto Donato Toma sta lavorando intorno alla costruzione della nuova giunta, ma soprattutto ha sottolineato alla definizione dei punti programmatici. Nello specifico, Toma ritiene che bisogna ripartire con immediatezza, dando ossigeno alle imprese per ricreare le condizioni necessarie alla ripresa della economia regionale. Un punto che ritiene determinante in questa primissima fase di avvio della nuova legislatura. Sono diversi, infatti, i punti da mettere in agenda, a partire anche da un report sui fondi non spesi e rimasti inutilizzati e che potrebbero essere utili proprio in questa fase di ripartenza. Nel contempo, l'avvio della sburocratizzazione della macchina amministrativa per facilitare i pagamenti alle imprese. Poi ancora altri punti specifici e sempre orientati a garantire l'immediata ripartenza del tessuto economico attraverso le imprese. Sono i punti che avrebbe già definito per tenerli pronti all'atto dell'insediamento. Del resto, il territorio molisano ha la necessità di trovare interventi d'urto capaci di creare i giusti appigli fin da subito. Per questo sta lavorando anche sulle figure che maggiormente potranno interpretare i punti programmatici all'interno del nuovo esecutivo regionale. Un lavoro in sordina ma che immediatamente dopo la programmazione sarà in linea nel tentativo di fare ripartire la regione molise.